Il Comune di Agrigento e l'Agenda Urbana, il traguardo conclusivo della procedura. L'intervista alla Sindaco Lillo Firetto. Finalmente è sottoscritta stamattina la Convenzione per Agenda Urbana. Cos'è Agenda Urbana? Ci hanno sentito parlare tanto tempo di Agenda Urbana e ce lo hanno sentito dire per oramai un anno e mezzo, perché tanto è durato il tempo di gestazione di un progetto che parte da lontano, che è stato proposto e che ci rende ente intermedio di spesa per la Regione Siciliana sui fondi comunitari. È un investimento sul futuro della città, 17 milioni di euro che saranno spesi su svariati campi della vita e del futuro della città. In ordine sparso mi piace indicarne alcuni. Si investirà notevolmente sul piano della mobilità sostenibile, si investirà sul trasporto pubblico locale con l'acquisto di due minibus ecologici, si investirà per la realizzazione di oltre 40 paline tecnologiche da posizionare sulle aree di sosta dei bus urbani, paline che ci consentiranno di sapere entro quanto tempo arriva il bus, ci consentiranno quindi di avere una città per così dire in qualche modo intelligente con dei servizi più a misura. Si interverrà ancora sulle piste ciclabili con alcuni interventi su nuove piste ciclabili, potenziamento e nuove posizionamenti di bike sharing. Si interverrà sulla sicurezza cittadina attraverso un'attività di investimento e completamento del COC, che come è notorio è l'area di regia che interviene in occasioni di intemperie. Tutto questo è utile per garantire al cittadino di poter essere preservato da una serie di fenomeni che talvolta creano nelle città gravi problemi di sicurezza. Si interverrà per la messa in sicurezza del costone nord del Viale della Vittoria. Interverremo su alcuni progetti di sviluppo turistico e di sviluppo culturale che sono in fase elaborativa. Si investirà sull'energia sostenibile e si investirà notevolmente sulle scuole, per avere delle scuole immobili più sicuri e più in linea con quella che è la sostenibilità ambientale. Interventi a vario spettro che dureranno nel tempo e che faranno della nostra città una città più sostenibile dal punto di vista ecologico e anche una città più smart. Grazie a tutti. Grazie.